La chiamano la bassa marea della Quaresima e ogni anno, con puntualità, interessa il porto di Pozzuoli ed Adarsena nel periodo che va da febbraio ad aprile. L'acqua del mare si ritira, lasciando a secco soprattutto il porticciolo dei pescatori. Un fenomeno naturale che non ha nulla a che fare con il bradisismo, ma che rende difficile la navigazione dei pescatori e dei diportisti. Il signor Giuseppe, diportista di vecchio corso, spiega cosa sta accadendo in questi giorni. L'evento ricorrente che avviene ogni anno, perché il 2 gennaio, nella Adarsena, noi tenevamo circa un metro e mezzo d'acqua. Detto dai vecchi pescatori putiolani, quando si hanno le acque secche, la bassa marea e l'alta marea, di solito abbiamo un abbassamento delle acque di circa 30 centimetri. Ma nel periodo della Quaresima si raddoppia, se non triplica anche, la bassa marea. Il bradisismo non è da attribuire al bradisismo, perché se si fa una verifica nel mese di maggio in questo posto, ritorneremo nella normalità. Ieri, il primo giorno di acqua bassa, che ha riportato però alla luce uno scenario raccapricciante. Il fondale è praticamente ricoperto di liquami, plastica, corde, reti e materiale di risulta, che proprio in questi giorni potrebbe essere rimosso. Ma purtroppo, lungaggini burocratiche e i vincoli della sovrintendenza non permetteranno la pulizia, ma al mare, di ricoprire tutto, lasciando quintali di plastica e di spazzatura sul fondale. Si potrebbe approfittare per pulire, perché poi si vede tutto questo scempio che c'è a mare, e valorizzare ancora di più la Darsena. Avrebbe fatto un dragaggio. Sì, noi l'abbiamo fatto una giornata, abbiamo speso circa 6.000 euro per una detta che chiamammo, ma poi siamo stati bloccati stessi in quella giornata, perché le autorità ci dissero che loro pensavano che noi devono fare solo una pulizia di superficie.